Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Snack Plisken, che mi chiede di parlare del film del 1989, del grandissimo Joe Dante, L'erba del vicino, con uno strepitoso Tom Hanks, un grande Bruce Dern, una splendida Carrie Fisher, è un film molto particolare, una commedia nerissima per un Joe Dante grandioso, come al solito per me, questo è un capolavoro della commedia americana, veramente sottostimato e cagato zero da tutti, invece per me è un grande Joe Dante, sulla mia canale se andate a vedere e cercate Federico Frusciante, Joe Dante c'è una breve intervista di una mezz'oretta che ho avuto la fortuna di fare quando ho passato quel pomeriggio insieme al Buongiorno, dove ho intervistato anche Miguerris al volo così a cazzo di cane perché ci sarei incontrati, in più ho fatto la monografia ai tempi di Joe Dante, quindi un po' breve, andrebbe rifatta per rendere ancora più giustizia, ma per me Joe Dante è un grande. E in questo film racconta la storia di questo rei, un uomo stressatissimo dal lavoro, che decide praticamente in questo quartiere classico borghese, con la famiglia di prendersi qualche giorno di riposo. Questo però viene messo in discussione dal fatto che arrivano dei vicini, questi clock dick, questi vicini praticamente che fanno un grande casino, specialmente la notte, e che lo insospettiscono di brutto, specialmente quando scompare appunto il vecchio di casa. Allora rei decide di unirsi ai suoi due vicini, Mark e Art, e praticamente cominciare a indagare, non si renderanno conto del casino che sta succedendo fino all'esplosivo, diciamo proprio nel vero senso della parola, finale. Siamo di fronte alla solita messa in scena di un giudante clamoroso. Tutti i tempi del montaggio sono beccati perfettamente sia a livello comico che a livello di... porca puttana del telefono... sia a livello, diciamo così, di messa in scena, cioè quindi fotografia fantastica che in alcuni punti appunto ricorda l'amico e l'amato Mario Bava. In alcuni momenti c'è sempre quella voglia appunto di un certo cinema, in alcuni momenti si nota la voglia di un certo cinema della nuova Hollywood, che non sembrano essere andata scomparita da questi giovani autori dell'epoca appunto che venivano da quella nuova Hollywood, e che continuano qui a rimescolare nel torbio di un certo tipo di borghesia americana attraverso un racconto su appunto i vicini, sullo spiare, su anche in un certo senso la menzogna, l'amore e l'amicizia, il tutto mescolato dalla follia di una sceneggiatura semplice e diretta, ma soprattutto di una messa in scena perfetta, come ho detto, nei tempi, perfetta nel modo di raccontare attraverso una macchina da presa, attraverso il movimento della stessa, che non è mai con Giudante buttato a cazzo di cane, perché qui siamo di fronte a uno che quando chiude, diciamo, la quadratura del cerchio e la geometria dell'inquadratura non sbaglia, e soprattutto non sbaglia perché siamo di fronte veramente a un film che parte con quest'idea di questo che si vuole rilassare e invece la disavventura cresce sempre di più, fino, come ho detto, al poderoso finale, dove, diciamo, l'ironia macabre e nera del grandissimo Giudante va a unirsi appunto a quella della voglia dell'horror che ha sempre avuto, per un film crudelissimo, uno dei film più sottovalutati, come ho detto, la storia del cinema americano, secondo me l'erba del vicino è un mezzo capolavoro, è un film di quelli che dovrebbero essere visti, rivisti che in Italia il DVD si è visto per 20 minuti, non so se l'hanno ristampato, se l'hanno ristampato il link lo metterò qua sotto, è un acquisto obbligato, come ripeto sempre, se comprate qualcosa dai miei link Amazon, anche se dovete comprare una lavatrice, una pen di abiti, un telefonino, un libro, sia mai, comunque passate dai miei link che mi arriva una percentuale di 1-2% senza che a voi mi aumenti un cazzo, ma detto questo il film è veramente una bomba, una bomba per come critica un certo tipo di società, per come in realtà poi riesce ad essere ironico su cose serissime, appunto come la morte, la malattia e come riesce allo stesso tempo a farci riflettere appunto su un tipo di società confusa, sempre nascosta, che ha paura del diverso e che a volte però può avere anche ragione in un certo senso, è un film fantastico. E quindi che dirvi di più, in questa satira assurda, chiaramente non perfetta, però è un film secondo me bomba, Dana Olsen forse fa parlare un po' troppo ai nostri protagonisti, Dante è buonissimo anche a farci capire attraverso il suo messaggio, attraverso l'immagine forse più della parola, però un'altra volta è un film satirico che colpisce nel segno, pur non essendo un capolavoro ma essendo sottostimatissimo. Giudante comunque ha fatto un grande lavoro, è una commedia nera psicotica come questa, come ho detto, botte di horror e thriller, non si trova tutti i giorni, quindi che cazzo volete per me, è un grandissimo film nonostante le critiche che si porta dietro di essere facilone, di via di là, di subidimensionale, per me non è assolutamente vero, i personaggi sono ben scritti e quello che tira sul tutto è la grandissima messa in scena di un Giudante che non sbaglia mai i tempi, né del montaggio, né della musica, né dell'utilizzo appunto di un film tutto girato in studio tra l'altro, quindi, e non sembra mai, quindi che cazzo vi posso di più? Il link è qua sotto, andate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube e poi, insomma, seguitemi su Facebook e su Instagram e poi, se vi volete bene, compratevi tutti i film del grandissimo Giudante e naturalmente anche questo L'erbe del vicino del 1989 che è un po' passato così inosservato ed è un vero peccato che sia andato completamente a sparire quando per il sottoscritto è un cult grosso come una casa.